Un'altra ipotesi che vorrei fare riguarda l'adorazione del vitello d'oro quando Mosè va a farsi consegnare le tavole delle dieci leggi, i dieci comandamenti. Nel testo biblico, che io considero post-Atlantideo, ossia scritto da una migrazione di Isri, il popolo Isri, dal blocco geologico Sardocorso a causa del suo inabissamento verso l'Egitto e la Palestina, e questo popolo era in cerca appunto di una terra promessa. Se è vero ciò che sto dicendo, questo popolo adorava il toro, il dio toro, come ha detto Sonchis di Saïs a Solone. Se era tutto vero, significa che loro adoravano il toro e non è un caso che questo popolo sia appunto Atlantideo e adorasse il toro. Si può dimostrare perché quando Mosè salì a prendere le tavole della legge, quando ridiscese, il popolo stava adorando un vitello d'oro. Si erano fusi, un vitello d'oro, l'avevano fuso e fatto, sì, con l'oro, con il materiale oro. Quindi il popolo praticamente era Atlantideo. Il fatto delle miniere del Sul ci scoincide del fatto che avessero creato le statue di Poseidono e d'oro. In questo caso forse ne avevano poco a disposizione e hanno creato solo un vitello, niente di più grosso. E Mosè si arrabbia tantissimo perché gli chiede come avete potuto farvi un vitello quando io sono salito a farmi dare le tavole delle leggi. E se non sbaglio spaccò le tavole per l'arrabbia. E in seguito viene consegnata un'altra copia dalla divinità. Quindi abbiamo una coincidenza, non solo di ciò che dico io, coincide ciò che dico io con i testi delle scritture. Grazie.